Sì, si tratta di un nuovo evento che in città non era mai stato fatto, è un evento dedicato all'orientamento e ai ragazzi. I veri protagonisti sono i ragazzi delle terze medie di Fano, che avranno la possibilità di avere tutte le scuole superiori di Fano alla Memo. Nella sala ipogea, al piano terra, dalle ore 15, avremo degli incontri di un formatore esperto, Gianluca Antoni, che sarà rivolto ai genitori. Perché abbiamo deciso di fare questo evento? Assieme all'assessore Samuele Mascarin abbiamo compreso, ed è stata una richiesta voluta fortemente dalle scuole superiori, che il momento di passaggio dalle medie alle superiori è un momento molto delicato dei ragazzi, molto importante, fare una scelta consapevole, non dettata da amicizie o da mode del momento. E quindi è un affiancamento del comune alle scuole per provare ad aiutare i ragazzi a fare una scelta per lo più sempre più consapevole. Come avete titolato l'incontro e a che ora sarà? Allora, si svolgerà sabato 10 novembre nel pomeriggio alla Mediateca Montanari. L'evento si chiama Quo Vadis Fano Rienta, quindi è un nuovo evento sperimentale e speriamo abbia tanto successo.